E siamo allo sport alla pallavolo maschile Serie A2 con la preziosa vittoria conquistata domenica scorsa a Grotta Assolina. La basi grafiche Geosat Lago Negro si avvicina al traguardo della salvezza in modo alquanto singolare. Antonio Coronato. Ci sono vari modi per raggiungere una meta. Che sia un luogo o un risultato sportivo cambia poco. La basi grafiche Geosat ha scelto quello più difficile ed emozionante per provare ad arrivare al traguardo della permanenza in Serie A2. I biancorossi hanno conquistato finora solo vittorie esterne nella pool salvezza ma con un percorso netto, tre partite, tre successi fuori casa che annullano le altre tante dolorose sconfitte subite al Palalberti di Lauria. L'ultimo colpo esterno è arrivato domenica scorsa a Grotta Assolina, un netto 3-0 nel conto dei set in cui i protagonisti sono stati i soliti Galabinov, Kvalen e Boscaini, tutti in doppia cifra alla voce punti vincenti. Il sestetto guidato da Paolo Falabella consolida così la prima posizione e soprattutto allarga di due punti il solco con la terza piazza occupata da Brescia, sei lunghezze più indietro. Un margine importante perché il regolamento dona in premio la salvezza solo alle prime due in classifica al termine della seconda fase. Per le altre sarà in programma la roulette russa dei play-out. Quando mancano quattro giornate alla fine ai Lucani potrebbero bastare due vittorie per raggiungere finalmente la permanenza in Serie A2, la loro meta, il loro traguardo. L'obiettivo è chiudere il discorso al più presto, oltretutto in calendario ci sono altri due match fuori casa, visti i precedenti non è proibito pensare positivo.